E sono entrata con una consapevolezza, cioè quella di non sapere, di avere un grande vuoto in tutto quello che è il mondo bancario, ma sapendo che magari comunque c'è un'esigenza e quindi mi sono fatta una grande valutazione di me stessa, cioè conoscenza zero e ho cercato qualcosa che mi potesse aiutare, non solo a coprire poi quella che è la conoscenza, ecco come dice magari Valerio nelle formule, ma poi un appoggio, perché poi nella pratica è difficile, perché parli con persone, magari puoi rischiare anche di mettere in difficoltà aziende che sono già compromesse. E posso dire, io sono entrata a settembre e ho trovato questo aiuto, questo lato di umanità all'interno della rete, che per me è fondamentale, è quello che cercavo, perché mi sono capitati dei casi di imprenditori che cominciano a percepire questa esigenza, dove mi hanno detto io mi sento solo, mi sono sentito abbandonato dai consulenti, anche di grandi realtà, magari associazioni di categoria, ok, e io allo stesso tempo so che hanno questo bisogno, ma so anche che non sono in grado, ok, nel senso che ho grandi buchi, ok, non so da dove partire, è un po' la lezione di Valerio oggi mi ha rincorata, nel senso che so che dovrò fare tanta strada, ma più o meno un percorso, almeno mentale, che so che piano piano, anche non da sola, riuscirò a colmare. Ecco, questa era l'esperienza che ho avuto e che volevo un po' esprimere agli altri.